La pioggia abbattente Il reputo del celebrante Don Ciro Galisi che nella sua omelia ha cercato di placare l'animo ricolmo di desiderio di vendetta di alcuni, invitando alla misericordia ed al perdono. Alla fine della messa toccante l'intervento della mamma di Guido che ha raccolto l'ultimo respiro del figlio sul ciglio della strada in via d'Alessandro. Mio figlio ha detto mi ha regalato 27 anni di bontà, era un angelo e chi lo conosceva lo sa, voglio solo dire ai ragazzi che rischiano di perdersi e di tornare indietro. Tornate indietro. Le indagini sono in corso e procedono, come si dice in questi casi, a 360 gradi. Per ora al centro dei sospetti sono finiti due fratelli, entrambi di Nocera, la cui posizione tuttavia sembra, secondo i primi accertamenti, destinata ad alleggerirsi. Al primo di 30 anni non viene imputato per ora alcun coinvolgimento diretto nel delitto, ma il solo possesso illegale di un'arma modificata. Un suo fratello di 20 anni è finito indagato nell'inchiesta per deduzioni investigative supportate da un solo elemento, la sua presunta riconducibilità per parametri che i tecnici definiscono antropometrici, alla sagoma del killer fissata da una telecamera di videosorveglianza in via d'Alessandro. Una figura alta e magra, dal volto però coperto con sciarpa e cappello e indossante una filpa. Ma sabato sia del ventenne non era a Nocera, agli investigatori ha dimostrato di trovarsi in un noto ristorante della zona per un diciottesimo compleanno, chiamando come testimoni le 200 persone che hanno condiviso il banchetto con lui. Che non fosse un omicidio di camorra lo hanno capito da subito gli investigatori. Lo diceva la dinamica dell'agguato e lo confermano le indicazioni personali raccolte sulla vittima. Non aveva precedenti specifici Guido Garzillo che anzi è risultato del tutto estraneo alle dinamiche della criminalità organizzata del comprensorio. Restano due piste, quella cosiddetta appassionale e quella che legherebbe l'omicidio al sottobosco della criminalità comune nocerina, con la quale per motivi tuttavia ancora da accertare la vittima sarebbe entrata in contrasto. Ma sarebbe la pista passionale quella più accreditata e da essa potrebbero arrivare nelle prossime ore le attese e novità.